È accusato di aver molestato almeno quattro pazienti, tutte ricoverate all'ospedale di Cittadella. Un infermiere professionale di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata plurima. L'indagine è partita a maggio di quest'anno, quando una donna ricoverata all'ospedale di Cittadella e sottoposta ad un trattamento con farmaci ha denunciato ai carabinieri di essere stata palpeggiata più volte da un infermiere. I carabinieri per mesi hanno indagato ed è emerso che altre tre donne avevano subito simili molestie. Gli episodi erano iniziati a giugno del 2021. Dalle testimonianze degli elementi raccolti durante le indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare l'infermiere, autore delle molesti sessuali. È un uomo di 39 anni che è stato arrestato ed è detenuto nel carcere circondariale di Padova. Nei prossimi giorni, il giudice per le indagini preliminari dovrebbe interrogarlo per confermare o meno la misura cautelare. L'Utl Sayugane, in una nota del direttore generale Paolo Fortuna, ha fatto sapere che nei confronti dell'infermiere c'era già un procedimento disciplinare in corso che aveva portato nei mesi scorsi alla sospensione del 39enne dal lavoro assegnandolo ad un'altra mansione non a contatto con il pubblico in attesa dei risultati delle indagini.